Ciao a tutti ragazzi, per la sera facciamo partire con la squadra olandese, stasera facciamo una partita di quelle normali, quindi non quelle veloci, con la squadra olandese. Questa partita la dedico al mio amico del cuore Lampu, che non avrà mai questo personaggio qua che si chiama Brian, e lui non lo avrà mai. Mi piace sottolineare delle parole perché è molto importante delle volte, ok, è crashato il client, forse potrei, ok, no, si è ripetito, in ogni caso, vediamo un po' di cose perché tenete a fine che il computer mi impazzisce, cosa che ovviamente sta facendo spesso, ok, in ogni caso, mi stavo dicendo, ah, Lampu non avrà mai Brian, se qualcuno conosce Lampu sia in game che su Facebook scrivetegli Lampu non avrai mai Brian, mai, soprattutto sulla pagina Facebook che lui segue, fate sotto i miei commenti, sotto i miei video, la hashtag Lampu non avrai mai Brian, in modo che si arrabbia, perché si deve arrabbiare, è diciamo tipo una missione di vita per me. Ok, lui, la squadra c'è la D3K più forte della nostra, non ci interessa, perché noi siamo Team Brian nel cuore, e quindi gli spaccheremo la mandibola. Ok, la connessione dell'avversario non è stabile, iniziamo bene. E poi, ragazzi, la canzone che ho messo ieri, quando ho fatto il pull con Goku di Super Saiyan di terzo livello, ma com'è boom un piacere. Ma chifo! Cioè, ma, che parli a fare tu che neanche ti fai vedere? Se ti fai vedere puoi parlare. E io... Ok, ragazzi, mi suggeri trappolare la palla, trappola, trappola la palla, trappolina, trappolette, no, 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 addio. Si vede che non sono abitato a fare le partite... le partite lente. Sono giusto il noioso, e come cavolo fate a farlo? Questa è la mia prima partita lenta della prima fase a cap. Weppo, weppo, wow, guarda là che pirro, ah! Mamma mia, Lady Oscar! Vai, Lady Oscar, vai! Falla Soda! E c'era il passaggio su Soda? Sì, tu non c'è l'intercetto. No, No, Brian incuria il gioco, Brian! Perché mi fai questo, papà? Io ti voglio tanto bene, ma tu queste cose non me le devi fare. La prima volta che uso Soda in una partita Forse è la seconda Vai Soda, vai Soda Fammi vedere che non sei inutile Che ti sei fatto buttare fuori contro la Francia Solo per un errore Cerco che giocare Mettere insieme nello stesso team Napoleon e Soda Niene Ok, prende la palla Il nostro amatissimo Nonché fortissimo Brian è ancora in fuorigioco Che cacchio devo fare se tengo tutti in fuorigioco Ragazzi, io ti aiuto SOS tutti in fuorigioco Passiamo la palla dietro Logicamente, come ritardati Io avanzo e poi torno dietro Avanzo e poi torno dietro Welcome to Holland Squad Total football may ass Olè Ho ripreso la palla Di nuovo Brian non è in posizione E quindi ributtiamo stamina Per fare un poso artistico Artisticante Artistico Artistico Tanto Roberto Sabi Ti tagga sul telegram Quando Roberto Sabi ti tagga Ragazzi Scaffate Finchete di morti Perché chi lo conosce Sa bene Che è un personaggio Di cui stare alla varga Da cui? Sì Da cui Vabbè Fatto sta che è un satanista Crede in satana E molte cose cattive Tutte le sere Si dice C'è la credenza popolare Che Prende Prende o prenda? Vabbè Comunque piglia 8 padre E le sa critica Ragazzi Stata partita è stata Un fallimento Totale In quanto l'avversario Si è disconnesso Mi scoccio di rifarlo Soprattutto perché ho parlato male Di Roberto Quindi vi voglio far vedere Che parlo male di Roberto Nel video Quindi Questo video finisce qua Ne faccio un altro In cui uscirà una partita E questo lo chiamerò Semplicemente Roberto Sabi Aiuto Ci becchiamo tra poco